ciao a tutti bentrovati sul mio canale veri ASMR io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante questa volta per farvi rilassare o addormentare vi mostrerò alcuni prodotti contenuti nella scatola che vedete qui di fronte a me questi prodotti mi sono stati gentilmente inviati dall'azienda Bio Galò io vi consiglio naturalmente di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltare i video e soprattutto di distendervi scegliendo un posto comodo mi raccomando lasciatemi poi alla fine del video commento per farmi sapere se avrete provato dei tingles dei brividini grazie alla mia voce in whispering e ai suoni che produrrò per chi fosse interessato poi all'argomento questo è un video in collaborazione con l'azienda che mi ha offerto un codice sconto per voi ve lo lascio giù nell'info box e anche qui in sovrimpressione che il codice è feri 20 e vi dà il diritto al 20% di sconto appunto su qualsiasi ordine che vorrete effettuare sul sito www.biocalò.it ma andiamo a vedere adesso di cosa si tratta dunque il sito sicuramente potrà interessare molti di voi perché è un sito dedicato alla cosmesi naturale infatti rivende e moltissimi marchi di cosmetici naturali bio ed ecco bio certificati vi faccio degli esempi anthos alchemilla benekos bema cosmetici maternatura ufficina natura neve cosmetics e molti altri si va dai prodotti per la cura dei capelli per la cura del viso del corpo come vi ho detto ci sono anche prodotti make up e prodotti specifici per gli uomini e per i bambini ora vi mostro che cosa ho scelto io i prodotti li ho inseriti nuovamente all'interno della scatola nella quale mi sono arrivati ma li ho già testati quindi potrò anche parlarvene un po' c'era questo adesivo che sigillava il pacchetto sopra la cartellina ho già un po' di sticky sounds io dunque veniamo al primo prodotto che ho scelto dentro alla scatola ci sono questi fanno un bel suono non trovate? ecco guardate questa è una maschera per i capelli di Alchemilla una maschera nutriente e ristrutturante fragola e panna sapete che i miei capelli ho fatto di tutto negli ultimi tempi hanno subito ben tre decolorazioni il tutto per cercare di riportarli a un colore che fosse il più possibile simile al mio naturale che è un biondo scuro castano genere non ci siamo riusciti e in questo periodo sento davvero l'esigenza di nutrirli soprattutto dopo lo shampoo perché sono molto secchi quindi sto sempre lì a mettere oli vari ve ne avevo già mostrato uno tra l'altro in un vecchio video vi leggo cosa c'è scritto qui dietro morbida maschera capelli ricca di estratti vegetali particolarmente indicata per capelli secchi e danneggiati le proteine idrolizzate della soia idratano e proteggono i capelli grazie alla loro marcata azione filmogena creando uno scudo protettivo presso i bordi della cuticola e nei punti di frattura burro di karité olio di mandorle olio di lino e burro di cacao in sinergia per un potente mix di antiossidanti come vitamina E e fitosteroli dalla marcata azione riparatoria questa l'ho utilizzata già per due volte durante il lavato appunto ha un profumo buonissimo wow sa di big bubble peccato non potervelo far sentire la consistenza è cremosa si ma non eccessivamente densa diciamo che è comunque più densa rispetto a un balsamo anche perché va mantenuta più a lungo sui capelli prima di essere risciacquata però a mio avviso non appesantisce tanto il capello e lascia veramente un profumo spettacolare il colore è un po' strano è un color caramello beige non avevo mai visto una maschera di questo colore che sono 200ml e se dovessi consigliarvi una maschera buona per capelli questa sicuramente sarebbe una delle mie preferite quindi primo prodotto che mi è piaciuto tanto è questo restando sempre in tema capelli anzi no questo ve lo faccio vedere dopo voglio prima mostrarvi un'altra cosa questo inizia a diventare secondo me interessante soprattutto nel periodo post invernale quando un po' tutte forse tutti iniziamo a correre ai ripari per rimetterci in forma e superare la prova costume però io ho preso l'abitudine di prendermi cura della mia pelle anche durante l'inverno e quindi sto utilizzando questo gel anticellulite di anthos che vi mostro vedete gel anticellulite codio anticosmetico con estratti tipo castano quercia marina alga bruna centella asiatica rusco edera ericero fieno greco e migliarino in pratica dopo la doccia questo lo applico sulle gambe prima di questo sto utilizzando un gel dell'equilibra sempre a effetto fresco però devo ammettere che anche questo mi sta piacendo tanto allora qui la consistenza è abbastanza liquida non eccessivamente cremosa il profumo è un profumo di erbe quindi un profumo fresco e vi mostro un po' come si presenta vedete va ovviamente massaggiato anche questo fa subito un effetto fresco e ricorda un po' l'odore di una pineto per me è molto molto gradevole non è eccessivamente appiccicoso quindi se lo utilizzate dopo la doccia sulle gambe per esempio ovviamente massaggiandolo bene poi potete rivestirvi tranquillamente l'effetto che dona diciamo quasi immediato è un effetto tensore qua dice l'uso quotidiano favorito da un completo e veloce assorbimento garantisce risultati rapidi e durature la cellulite si attenua e i tessuti appaiono più compatti la miscela di estratti di erbe concentrati contenuti in questa emulsione agisce sull'epidermide svolgendo un'azione trenante levicante ed elasticizzante c'è anche un'altra cosa che voglio dirvi prima di arrivare al prossimo prodotto e cioè che su questo sito ci sono le spedizioni gratuite per tutti gli ordini sopra i 33,90€ spediscono in tutta Italia e ovviamente vendono solo online attraverso le store che vi linkerò giù in descrizione hanno anche una chat attiva sul sito dove potete contattare il loro customer che ha per dei consigli e hanno anche un blog ecco qui il terzo prodotto che volevo mostrarvi è contenuto in questa scatolina ed è di Alchemilla come potete leggere Alchemilla Bio Styling and Finishing è un termoprotettore dicevo appunto che i miei capelli ultimamente hanno molto ho bisogno di cure quindi ho pensato di prendere questo spray che in pratica contiene acqua glicerina alcol denaturato e tantissimi estratti e olietti come l'olio di mandorle dolci questo l'ho utilizzato tantissime volte in pratica sempre prima della piastra per testarlo bene va detto che io ho una struttura del capello molto molto forte e molto spessa quindi i miei capelli si rovinano difficilmente e resistono bene anche alle alte temperature però dopo le tre decolorazioni come vi ho detto all'inizio sono abbastanza danneggiati e quindi niente questo si applica così e lascia un profumo abbastanza fresco che comunque diciamo va via nel giro di poco tempo non è una profumazione eccessivamente invadente però è gradevole per me da provare secondo me se volete un termoprotettore che sia però ecco io ora prima di passare a tutti i campioncini che mi hanno inviato e che fanno veramente un bel suono vi mostro l'ultimo prodotto l'ultimo prodotto è una matita rossetto di neve cosmetics e precisamente si chiama delirium è questa ed è tra l'altro una matita totalmente termocromatica che quindi sta bene con i miei colori come potrete vedere è un rosso bordeaux un rosso fino abbastanza scuro ma non eccessivamente e questo è lo swatch quello che mi ha colpito di questa matita di neve cosmetics è che è molto morbida quindi può essere facilmente sfumata però tende a fissarsi quindi se la lasciate asciugare prima di lavorarla con un pennellino oppure di sfumarla semplicemente con la matita stessa con la pancia della matita tende appunto a fissarsi e quindi non sbava come la maggior parte delle matite morbide questo mi piace molto io comunque non utilizzo quasi mai la matita per contornare le mie labbra e una di questo colore mi mancava proprio quindi sono molto contenta di averla acquistata e comunque neve cosmetics si sa è un buon marchio quindi i suoi prodotti sono sempre una garanzia la linea è la pastello non so se riuscirete mai a leggere non lo avvicino ma forse no comunque si il nome è delirium vi ricordo sempre di guardare giù nell'info box per tutte le informazioni relative al sito e per recuperare il codice sconto che vi da diritto al 20% in meno sui vostri acquisti adesso mostro i campioncini che ho trovato all'interno della scatola sono proprio tanti qualcuno di voi si ricorda sicuramente il mio video con le bustine di campioncini se riesco ve lo lascio qui nel pallino con lei andateci a cliccare per riguardarlo anche voi siete del club del campioncino io sono presidente onorario allora abbiamo una crema di officina natura crema giorno tonificante più attivi idratanti e protettivi refreshing daily cream aloe biologico questa qua poi abbiamo di bema bio body in linea crema contro gli anestetismi della cellulite campioncino da portare in viaggio magari nei viaggi brevi sempre di officina natura crema stop age elasticizzante biattivi idratanti e nutrienti e qui seto biologico anche questa mi sembra molto molto interessante come vedete i campioncini ancora non li ho aperti poi abbiamo di nature up latte olio detergente idratante moisturizing cleansing oil milk per tutti i tipi di pelle quindi latte olio detergente idratante di bema belle mani bio una crema mani all'avvocato sempre di bema bio crema smagliature elasticizzante infine abbiamo di maternatura uno shampoo per capelli lisci alla ninfea eccolo qua questa confezione rosa molto molto carina maternatura è un brand che mi piace di officina natura un sapone intimo ultra ultra delicato senza profumo 0% solfati quindi detergente intimo ultra delicato e infine sempre di maternatura un bagnadoccio tonificante al bergamotto questo non vedo l'ora di provarlo perché amo il profumo del bergamotto che ne pensate? io spero che tutti questi prodotti vi abbiano incuriositi mi raccomando andate assolutamente a dare un'occhiata al sito che vi lascio giù nell'info box www.piocalò.it e utilizzate se volete fare qualche acquisto il mio codice sconto non è un codice affiliato quindi non ricevo nulla se lo utilizzate però può essere utile per voi ricordate di lasciarmi un commento anche scrivendo magari quali di questi prodotti vi ha colpito di più e se vi siete rilassati lasciatemi un bel mi piace per farmelo capire e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte un po' un po' un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti.